Dalla sinergia tra due settori apparentemente distanti tra loro possono nascere nuove opportunità. Regione Puglia e Arti, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Puglia, hanno promosso un confronto tra i protagonisti di Aeronautica Aerospazio e Automotive, volto a far emergere le sfide e le sinergie dei due settori. Sono due settori che stanno guardando al tema della ricerca, al tema della reindustrializzazione, soprattutto nel caso dell'Automotive, come una nuova opportunità di sviluppo. Nel caso dell'Automotive, indubbiamente provare a riconvertirle significa mantenere vivo un settore industriale importante che rischia un crollo economico, vogliamo stimolare anche le imprese del territorio e, perché no, suggerire nuovi settori industriali. Il passaggio all'elettrico ha cambiato il mondo dell'Automotive che adesso deve evolversi e innovarsi. L'obiettivo è cercare di comprendere quanto possa essere applicabile l'idea di far diversificare coloro che sono impegnati, coinvolti nell'Automotive, che sono stati impegnati per 25-30 anni, e coinvolgerli anche nel settore dell'aerospazio. Capire anche, magari, come coinvolgere in maniera un pochettino più incisiva le aziende locali, cosa che non è successo per quello che riguarda l'Automotive. L'obiettivo è essenzialmente quello di dare un'idea chiara e fattuale di cosa vuol dire fare rete e di come ormai non si arrivi più da nessuna parte se si gioca da battitori liberi. Quindi, creare dei sistemi che portino avanti l'innovazione e aiutino un territorio, la produzione in un territorio è fondamentale.